Le donne della famiglia spesso non ammettono, vabbè ho subito io, subisce anche tu, si continua così per generazioni e ovviamente questo ha un'altra percussione molto forte anche sui bambini, parlavo di tendenza assistita per fortuna i bambini sono una risorsa, anche così mi fa piacere insomma comunicare i bambini sono una risorsa molto importante perché quando sono piccoli, quando diventano adolescenti sono invece anche un fattore molto di difficoltà ulteriore insomma per la donna che cerca di prendere una decisione diversa, scegliere se non sia diversa, però i bambini più piccoli invece sono una fonte di forza per queste donne perché ad esempio per quelli collocati in comunità danno forza alla scelta della mamma, no mamma sono contenta di stare qua, non voglio tornare a casa, io qui so bene, poi si riprendono in una maniera velocissima per cui entrano impauriti e cominciano poi a un certo punto a giocare, quindi danno davvero in questo una grande forza alla madre che quotidianamente poi lotto, soprattutto nei primi tempi in cui si allontano dal marito con i tempi di colpa, con le difficoltà, ce la farò o non ce la farò con i dubbi, le incertezze, quindi insomma puntare sui bambini mi sembra anche insomma un'ottima cosa, un ottimo auspicio anche per il futuro.